Conoscete la chiesa di Santa Trinità dedicata a Dio, Uno e Trino, nel padre, figlio e spirito santo. Forse nell'undicesimo secolo al posto di un modesto oratorio per volontà dei monaci vallombrosani. Curiosamente fu chiamata subito dai fiorentini col nome di Santa Trinità e non della Santissima Trinità. Dopo circa due secoli la chiesa venne ricostruita con l'ampliamento dell'interno portato a tre navate. La facciata a tardo rinascimentale è opera di Bernardo Bontalenti. Mostra nel timpano l'altro rilievo con la Trinità opera di Giovan Battista Caccini, il quale scolpì anche la statua di Sant'Alessio, collocata in una nicchia laterale al portale di accesso. All'interno trovate molti capolavori come la Cappella Sassetti nel transito destro con gli affreschi del Chirlandaio, oppure il monumento in marmo e maiolo e capro oligroma di Luca della Robbia per il bescovo di Fiesole e Benozzo Federighi. La maddalena di desiderio da Settiniano e anche la cripta è davvero da non perdere. Come per la Cappella Compagni e con le storie di San Giovanni Gualberto, parlerò in una prossima filologia.